adesso sta in inglese l'abbiamo in seguito oggi vanno in luogo reddito non c'è ne capito la piazza e me non mi fai scritto la c'è il vento quando mi fai botte il ricco la c'è matto ma tu stai mordicone no stai mordicone ma mi fai mordicone ma tu ti vieni a mezzo frate a me vanno in luogo reddito a me vanno in luogo reddito ma non è fatica non è fatica ora non lo so non lo so stai a morire non lo so non lo so rimane un po' al dietro non lo so stai a farlo 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 no, adesso i due stai a farlo non mi piace io non ci piace ma, non lo so ma, ma la ragazza non c'è stai a farlo stai a farlo ma lo so non, questa è più importante e una dica ma quella L, questa che linea è X, ma non si pensava, quello che mi c'era già lui, che le linea te la stava chiedendo, no mamma, quella X e quella L, perché quella è la Jeep, però c'è assai, molto più. Ed, dico, perché si sapeva L? Perché si sapeva L? Perché si sapeva L. Chi lo teniva? A Ford. A Ford? A Ford a fianco. No, no, no. No, no, no. Ce l'aveva fatta Anna. Ma che si sapeva L. Ma che si sapeva L. Io. Ma non c'è ma c'è niente. E ci andai a metto con le Z. Eh? Ma lo stai fatigando? Fa così, vien. Up. E qua? Di gloria Copa... Di tutto ci stai fatigando... Ma non c'è tessa monipolline? Puoi potrei finire la ciumacciabee, su una Caesina, McGuroy... Che scorie ti? Madonna? Ma che c'è più d'acqua? Devevi regalciare. E quello che mi c'è mi c'è l'acqua di stanza. Clike boni noia, ma quello che non c'è l'acqua. che poi seconda non vuoi sentire che non stai venendo come stanno venendo? è brutta, il signor si cura qui chi lo va guardando? ti dà, c'è la stazione fino alla casa non ti dà la casa sono figli i gambele qua? no, non te ne vanno male, perché c'è l'amorito il terreno di questo io penso che è a partita l'ospitalia io potrei non puro mai amare eeeh eeeh si trovi così non lo so no l'espitulare il cibo è un po' cibo è un po' non è un po' non è un po' è una dura si, non è una dura ma ero ma cosa stava facendo? si vuole lasciare si può fare ma che buone da chez lì Parola, un po' bella. Adesso, bella. Ma un po' bella. Adesso, non lo so. Non lo so, non lo so. Cosa? Non è giallo? Non è giallo che ci sono raggiunto. Non è giallo. Non è giallo, non lo so. stiamo arrivando con un fissile a cucchia e l'aino grassa ma quello è il fischiatto l'unico è già tra me la mia zia in me lo posso io già staccato ah, c'è pesciolino non, non lo faccio ma che canta ma che canta che canta e tu c'è il duro con i pesciolini ma che vuole pure i pesciolini? 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 ma invece non mi posso sapere vieni 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 oh vieni vieni che non vieni 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 a me meglio No, qui è un bambuccio di nuovo. Ma non è? Non è? Ehi, fai un bambuccio di nuovo. Trovo, metti sanga oppure. Ci voglio dire, vedi. Ehi, hai capito ci la tiata. Ehi, vieni ti fa, vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. 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 Ehi, ehi, ehi! Sì, c'è quella che ci fa via io. Vieni, a che farla parte di solito essere un bambuccio di un bambuccio di un'altra. non c'è il pesciolino che si cava guardi io non ho visto il cosiddetto e la ragazza annunzia ah allora l'annunzia è fidanzata sono ragazzi che si chiama annunzia ah da pure sono bastonati io sono bambini sono bambini all'arredo che si sono bambini non ti farai solo in questo modo arriva le close qui si è minuto Oh mamma, mamma. Mamma, mamma. Non mi viene a te mani. A part di tu. Non mi viene a te mani. No, a YouTube. Non mi viene a te mangiare. Non mi viene a te mangiare. Non mi viene a te mangiare. No, no, ma tanto. Non mi viene a te mangiare. No, no no no. No, no, no no. Non si faccio un cuore. Non si faccio un cuore.